Sicuramente dopo la partita di Coppa serviva una risposta e inoltre in campionato le altre squadre al vertice hanno vinto, perciò ho bisogno di far punti e ci sono riusciti, è un vittorio importante. All'inizio forse eravamo un po' troppo bassi, abbiamo concesso la mezza ripartenza e ci hanno punito, al secondo tempo sono stati bravi poi a giocare, a proporre e ci siamo arrivati bene. La stagione fino adesso è sicuramente importante, poi sono fuori quota e devo comunque dare di più e aiutare la squadra. Sono a Bergamo da cinque anni e questo è il mio terzo anno di primavera, perciò credo di poter dare una bella mano alla squadra e quest'anno comunque sto dimostrando che sto aiutando. Da piccolino giocavo esterno, trequartista e ho cercato di mantenere sempre la mia protezione offensiva e di migliorare ogni anno la fase difensiva e con il ministro Babila mi sta dando una grossa mano e sto cercando ogni giorno di migliorare sempre la fase offensiva.